Carissimi amici è arrivato PanenoTube e oggi torniamo su The Theft Wars perché voglio scoprire qui insieme a voi il segreto degli alieni Ebbene sì con l'ultima versione beta che hanno fatto hanno aggiunto due alieni C'è l'alieno gigante, l'alieno piccolo, ma che segreto nascondono? Proveremo pure a fare la missione degli alieni, ossia quella di prendere i corpi degli alieni e portarli all'interno dell'area 51 Vediamo che cosa succede, sono curioso, quindi partiamo subito ma mi raccomando lasciate qui sotto tantissimi like Se like che lasciate sarà pari, il personaggio associato a voi sarà l'alieno gigante Se invece like sarà disparo, il personaggio associato a voi sarà l'alieno piccolo Fatemi sapere qui sotto nei commenti a quale personaggio siete associati E se vi piacciono questi tipi di giochi e questi tipi di video, mi raccomando iscrivetevi al canale Attivate la campanellina anche perché qua su questo canale ogni giorno c'è sempre un nuovo video Alle 18.20 dal lunedì alla domenica, quindi tutta quanta la settimana Ma adesso partiamo subito, cominciamo, facciamo single player Ma sì, mettiamo Richie, visto che è l'ultimo personaggio che abbiamo sbloccato Poi spero che arrivi molto presto all'aggiornamento dove potremmo poi sbloccare Chad Perché effettivamente c'è ancora sto terzo personaggio da sbloccare Che ancora non possiamo sbloccarlo Ma che roba Ed eccoci qua, questa è la casa di Richie Che bello Andiamo di qua subito, io direi di prendere No, la moto non la prendo perché ho paura poi di romperla E se la rompo poi non posso salvare i salvataggi Eh, io devo farmi soldini qua, devo farmi bei soldini Adesso andiamo di corsa Dove si trova l'alieno, veloce, veloce, veloce L'alieno dovrebbe trovarsi, quello gigante Dentro il coso, la torre dell'orologio Io ancora mi chiedo come mai ci sia un alieno gigante dentro una torre di orologio Me lo chiederò sempre Poi mi chiedo anche perché ci sia un'antenna per parlare con gli alieni All'interno di un albergo Sì, ma sta macchina ce la fa girare Eh, ma cosa, ma dai, ma fatemi girare Eh, fatemi girare però Ed eccoci qua, l'alieno dovrebbe trovarsi Da queste parti Ah, è già fuori, è già fuori, guardate qua Si trova già qua in mezzo alla strada Ma che roba Su, raccogliamolo Sì, ma qui mo ci metterò una vita Io raggiungerei l'area 51 a piedi Eh sì, per forza a piedi devo farmela Perché non posso caricare il corpo dell'alieno qua sopra il veicolo Quindi devo farmela a piedi No, vabbè Sentite, facciamo una cosa Cheat.exe, mettiamo il dudebolt Almeno così riusciamo a correre come si deve Che poi No, aspettate Ho sbagliato qua L'altro giorno avevo trovato una scritta Sopra un tetto di una casa, no? Tipo Raven of Son Una roba del genere, no? Eh, solo che poi mi avete fatto notare in tanti nei commenti Che quello non è altro che Il contrario del cheat di NOS Forever Quello che ci dà la possibilità di avere il NOS infinito Eh sì Me ne ero poi accorto in fase di editing Però io sono dell'idea che Un bravo youtuber Deve mostrare anche i propri errori Io ho fatto l'errore in quel video L'ho voluto mostrare perché È giusto così Io ho sbagliato E quindi tutti devono sapere che ho sbagliato Quindi mi prendo le mie colpe Mi prendo la mia responsabilità da bravo youtuber E quindi andiamo di qua Velace No, dove è finito il corpo? Prendi qua Non lasciare nessun alieno in mezzo alla strada Non lasciamo alieni qua in mezzo ai ponti Altrimenti veramente La cosa si fa difficile Che poi la gente si chiede Ma cosa ci fa un alieno gigante in mezzo a un ponte? Vabbè Già il fatto che vedono qua un pazzoide Che sta correndo con un alieno gigante in mano La cosa dovrebbe creare Un bel po' di problemi Troppi problemi Quindi di corsa Via, via, via Corriamo, corriamo, corriamo Dai, su Ma ci mettiamo la vita così Ci mettiamo la vita Vabbè Io vado saltellando Che quanto pare se saltello Vado pure più veloce È meglio così Meglio così Su, veloce Partiamo sto alieno Che poi, ecco All'interno dell'area 51 Nell'isola Quella parte lì Ora che ci penso C'è qualcosa di particolare Che riguarda proprio questi due alieni Come vi ho fatto vedere nei video scorsi Ci sono ben due UFO Che sono caduti lì Due dischi volanti Proprio lì sul terreno Che sono caduti Uno è grande E l'altro è piccolo E infatti qua abbiamo un alieno gigante E un alieno piccolo All'interno di questa versione Guardate qua come si collega tutto quanto Tutto, tutto collegato Adesso però devo fare attenzione a quello Che mo' fa la retromarcia Mamma mia qua E che roba camminare qua In sto gioco Che mi vengono a prendere Ma che roba Ma insomma Io sto alieno gigante Me lo sto portando dall'altra parte del mondo A momenti E il personaggio in tutto ciò Non si stanca Meglio così Meglio così Che poi ieri Non so se vi siete persi il video Vi ho portato Dude Simulator Che non è altro che Una sorta di Duteft Wars Per computer Fatemi sapere Se vorreste vedere altri video Di Dute Simulator Vabbè Io li farò sicuramente Perché Mi sta piacendo come gioco Poi nell'attesa Come vi dicevo Fino a quando non escono novità Di Duteft Wars Almeno ci divertiamo Con Dute Simulator Che tra l'altro Sono giochi molto simili Via 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 Andiamo di qua Veloci 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 Di corsa di corsa di corsa Corri personaggio Corri Dai che ce l'abbiamo fatta Dai che ce l'abbiamo fatta Siamo riusciti ad arrivare Nella base segreta militare Dove fanno gli esperimenti Sugli alieni Da notare Aspettate La strada Qui è tutta quanta bella Riflettente Di qualità pure Poi arrivo qua E mi trovo un catorcio di strada Tutta pixelata Con pochi dettagli Ma cos'è? Ma perché? Tutta così è sta strada qui Tutta in questo modo Intanto sto alieno qua Si sta facendo Praticamente il tour A gratis Si sta facendo il giro turistico No? Grazie alieno Mi devi ringraziare Per questo E poi qua c'è pure Guardate C'è pure qua No trespassing Non sconfinare E oltre questo punto E qui possiamo notare La faccia di un alieno Ebbene sì Perché questa qua È una zona segreta Tecnicamente io non potrei Neanche entrare qua dentro Perché qui fanno gli esperimenti Con gli alieni E qui dove sono pure Cascati Gli UFO Oh che roba Oh mamma mia Oh mamma mia Quindi adesso Questo amichetto alieno Gigante Direi che possiamo lasciarlo Anche di qua Non so se riesco a trovare Adesso gli UFO Perché sono un po' Difficili da trovare Non sono per nulla facile Quindi Caro amichetto alieno Io ti lascio qua Mi raccomando Non ti muovere Stai lì fermo Che adesso vado a prendere Il tuo amichetto Va L'altro tuo amico Non so se è tuo figlio Cos'altro Con cosa ci vado Vado Ma sì Prendiamo la moto Va Così ci divertiamo un po' Via di corsa Ma cosa c'è qua Aspettate C'è un qualcosa Che Ah ok È un altro elicottero Elicotteri che vanno a schiantarsi Sì vabbè Ma io mi sono fatto sto giro Solo per un elicottero Che ora Pensarci bene No cioè io veramente Io sono un panino fritto No Sono uno di quei panini Che vanno presi E vanno fritti direttamente Ma anziché farmi il giro Ma anziché farmi il giro Delle isole Potevo passare tranquillamente Qua dall'acqua Potevo passare tranquillamente Da qua Ma che roba Via di corsa Andiamo a prendere L'altro alieno Quello piccolo Veloce 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 Vai Che bello No Uh Non so come Sono passato in mezzo Sono passato in mezzo Ok ok Adesso dobbiamo prendere qua Vabbè Io scendo qui In questo modo Uh Ma una cosa bella Che mi piace In questo modello Della moto Che io Anche se scendo Mentre sono Con la moto Che si muove Questa si ferma Cioè io sono sceso Della moto Non è che dite Boh E è andata dritta E sarei scappata Come le altre No Questa si ferma Quando scendo pure io Ma meglio ancora Meglio ancora Su Allora Non ribaltiamo qua Go kart Dobbiamo entrare Dentro la montagna Adesso L'unico modo Per entrare Cioè Penso che ci siano Pure altri metodi Però quello più facile È quello di prendere Il go kart E trovare il buco Sotto la montagna Vediamo se lo troviamo Qui No Non è di qua Velocemente Proviamo a vedere Qui intorno Non è neanche di qua Dove si trova Eccolo qua L'abbiamo trovato E siamo entrati Dentro la montagna Siamo riusciti Ad entrare Spettacolare Di corsa Adesso prendiamo L'altro alieno E anche qua Dobbiamo farcela a piedi Però Anche qua Me la devo fare a piedi Fortunatamente Col dude bolt Sarà più facile Prendi qua L'amichetto alieno Che bello Adesso di corsa Ce ne andiamo via Da questo posto Ce ne andiamo direttamente Verso l'area 51 Io faccio una bella cosa va Io metto direttamente Il checkpoint Così seguiamo la freccia Vado dritto E son sicuro di arrivare Son sicuro di arrivare Stavolta non passo In mezzo ai ponti O cose strane Esco così Da una montagna Come se nulla fosse Io mi immagino La gente che mi vede così Comparire Dalle rocce della montagna Uscire fuori A caso E niente E così E è andata così Di corsa Andiamo di qua Verso L'area 51 E portiamo anche L'altro alieno E vai Così completiamo La missione degli alieni Che consiste appunto Di prendere I due corpi degli alieni E portarli all'interno Dell'area 51 Vediamo se succede qualcosa Vedo anche se riesco A trovare Gli UFO Quelli Relativi Gli originali Così poi posso portare Ognuno di loro All'interno dell'UFO Esatto Cioè l'UFO gigante E l'UFO piccolo Adesso noi andiamo Di qua dritti Stiamo andando Verso l'area 51 Via 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 No 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 L'alieno L'alieno Mi è caduto Su rialzati qua Rialzati Veloce Raccogli Qua Su Prendi qua l'alieno Perfetto Il danno da caduta Mi son preso Il danno da caduta E adesso lo portiamo Direttamente All'interno Dell'area 51 Guardate Sto facendo pure Un favore I militari Che stanno lì Loro stanno lì Che cercano gli alieni Ieri sto portando Direttamente io Mi dovrebbero ringraziare Per questo Dovrebbero ringraziarmi E invece sappiamo Che cosa fanno Altro che ringraziarmi Qua Altro Su dai corri 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 Veloce 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 Mamma mia però eh Mamma mia Non posso caricare Sopra la macchina Non potevo metterlo Sopra la macchina No eh Costa troppo farlo E allora niente Ce la facciamo a piedi Siccome quel personaggio È un grande atleta Della corsa Cioè dopo Sta cosa qua Veramente può andare a fare La maratona di New York Via 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 Scendiamo qua Abbiamo portato anche Quest'alieno All'interno dell'area 51 Spettacolare Sì Ce l'abbiamo fatta Ma l'altro che fino ha fatto No no Seriamente Ma l'altro alieno Ma oh L'avevo pi... Ah ecco infatti Mi sembrava strano Mi sembrava strano Toh Beccatevi qua alieni Beccatevi qua Questo mi fa raccogliere ancora Sì Perfetto Vabbè Checkpoint Possiamo pure toglierlo Adesso voglio provare a vedere Dove si trovano gli altri UFO Quindi andiamo qua Allora uno dovrebbe trovarsi Da queste parti Da questo lato Spero di trovarlo Visto che l'altra volta Ci ho messo una vita Per trovarlo Adesso fermati qua No perché qua Correre su ste dune Non è per nulla facile Non è per nulla facile Andiamo qua Velocemente Non vedo più la parte Ma cosa No In acqua Sono finito in acqua Non devo andare in acqua Mamma mia Mamma mia Mamma mia Dove saranno Dove saranno ferite Oh Oh UFO Fatevi vedere Fatevi vivi Fatevi trovare Che il buon panino Vi sta cercando Allora Su su Un panino alla ricerca Degli alieni Quando Oh l'abbiamo trovato L'abbiamo trovato L'UFO gigante Perfetto 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 Su su Veloce Veloce Andiamo di qua Veloce 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 E qui ci possiamo portare L'alieno gigante Vediamo che cosa succede Se lo portiamo di qua Proviamo a vedere Ed eccoci qua Spettacolare Direi subito di fare una cosa Ci piazziamo qua Il checkpoint Così No Metti qua sto checkpoint Non ti buttare in acqua Non ti buttare Adesso Su E basta però Basta arrotolarti Come una piadina E che roba Dobbiamo risalire di sopra Dovo tornare di sopra Recupero l'alieno E lo porto Sopra il suo disco volante Quello gigante Su sali E che roba però E sti catorci di macchine Che non sanno neanche muoversi Muoviti No Non ti girare Non ti girare Perfavore Perfavore Che poi finisce come prima Che finisci nel checkpoint Ok Allora Dove sta adesso Il mio caro amichetto alieno A questa parte Quindi ferma Qua la macchina Frena 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 Perfetto 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 Adesso Recuperiamo qui l'alieno Prendi qua l'alieno E lo andiamo a portare Dove ci sta l'ufo gigante Vai personaggio Corre E vediamo che cosa succede Sto riportando praticamente L'alieno Nel suo mezzo di trasporto Nel suo ufo Da dove è venuto lui Vediamo se cambia qualcosa Portandolo di qua Sono curioso di vedere Vabbè Forse in questa versione beta Non succede nulla Però quando uscirà La versione definitiva Molto probabilmente Bisognerà fare Sta cosa qua Ed eccoci qua E poggia qua L'ufo E l'alieno Volevo dire Ecco qua Abbiamo portato L'alieno Sul suo ufo Esatto Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Spettacolare Spettacolare Via Va bene Dai direi di fare una cosa Direi per il momento Di finire quel video Fatemi sapere cosa Ne pensate Fatemi sapere Se vorreste vedere altre missioni Collegate col mondo degli alieni Spero che questo video Sia piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Spalliciate E condividete Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva Noi ci vediamo al prossimo video Come sempre Vi auguro Buona giornata Buona giornata Bananatte Ciao a tutti E buon panino a tutti E buon panino a tutti